Ucci, Federico, Colaizzi, Guido, Donofrio, Gabriele, Nasuti, Cristian, Gianlonardo, Emanuele, Perrucci, Nicola, Malvone, Gianluca, Daniello, Michele, Mata, Tedi. Disposizione Ucci, Caporale, Rulli, Ceroli, Caporale, Manuel, D'Angelo, Niccolò, Sing, Caran e Ferretti, Filippo. Allenatore di Felice, Gabriele. Arbitrerà il signor Lino Mammarella di Castelfrentano. Adesso le squadre scenderanno in campo e prima del calcio...